E' una novità in quanto noi abbiamo trattato la primissima opera scritta a soli 12 anni da quel genio saluto di Mozart che è il Bastiano e Bastiano ma l'abbiamo portata in una dimensione favolistica, quindi adatta a tutte le età, ai bambini piccoli ma anche ai bambini grandi perché sempre giovani noi siamo dentro, ovviamente lo spirito è questo. E abbiamo inserito delle pagine straordinarie tratte da altri grandissimi capolavori mozartiani come il Don Giovanni, il Così fan tutte, le Nozze di Figaro e quindi il pubblico verrà proprio catapultato all'interno di questa favola, ovviamente ci sarà il lieto fine, ci sarà soprattutto su tutto la grandissima musica di quel genio saluto che è stato sin da bambino Mozart. Questa volta in veste di regista ma sarai anche in scena. Beh sì, come sempre faccio anche il ruolo del mago Colà, quindi un po' il traghettatore di questo spettacolo che condurrà i giovanissimi protagonisti verso il loro lieto fine, quindi verso il matrimonio tanto ambito ma soprattutto ci sarà un finale sorpresa perché io stesso avrò accanto una bellissima prima donna ma dovete venire a teatro per scoprirlo.